Ma guarda, io sinceramente mi sento di spezzare una lancia piccola, eh sindaco, in sua difesa, nel senso che i sindaci sono il baluardo in terre di mafia e devo dire che si debbono confrontare con realtà molto difficili, perché se noi pensiamo che un presidente della regione come Cuffaro non è stato mai mandato via da un partito come l'Udc presidente Casini, che è stato candidato anche a presidente della Repubblica, voglio dire condannato per concorso esterno in associazione mafiosa e oggi lo ritroviamo in politica, la realtà è questa, però detto questo lei deve, come dire, in tutti i modi e in maniere vigilare il più possibile proprio perché è in una terra di mafia? Mi dispiace, io non penso che questa sia la verità, penso che ci sia un'omertà ormai evidente, penso che Silvio Schepri stia rischiando qualcosa, che sia giusto farlo, penso che questo scavo ci dica anche che è una ragazza, che è nipote di un boss e non è una sua colpa, però nega che esistano i pizzini. E allora che fai, l'ammazzi, non ho capito, quelli vivono lì, quella è la realtà, è una cosa che racconta che cosa sta accadendo, Sanna, allora, scusate, scusate, ma dico, stiamo facendo il processo a chi? A tutte le persone di Quanto Bello, ma vogliamo scherzare? Noi dobbiamo processare e far processare le persone che si sono complici di questa latitanza, a quelle che non hanno visto. No, no, nessuno fa nessun processo, noi facciamo il processo però...